Vediamo! Stando a quell'antica mappa, dovrebbe essere qui nei paraggi. Booyah! Troppo facile, baby! Wow! Il guardiano del sandwich! Aha! Sto scavando! Sto scavando! Sono un professionista! Scavo, scavo! Oh, yeah! Lattuga! Riesco già a sentirne l'odore! Favoloso! Il guardiano del sandwich! Deve essere lo scrigno che custodisce il pomodoro. Come avranno fatto a trasportare questo frutto della terra nel sistema di Lylap? Questo è uso eccessivo della forza, signore! Pane ai cereali! Il più fresco che hai! In fretta! A questo posto mi manda in depressione! Ti ci vorrà dell'acqua con questo piccantino, baby! Allora vuoi la guerra! Dammi quella pancetta! Ehi, sei un po' arrabbiato, eh? Oh! Ehi! Buono amico! Ok, allora, parliamone un po' insieme! Faccia a faccia! Sto pensando che forse tutto questo è un po' esagerato per un pomodoro! Sì, insomma, c'è chi preferisce le spade oppure i laser, ma a me piace usare questa roba, capisci? Così! Stem! 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 Dritto in testa! Al ginocchio! Clavicola! O quello che è! Due colpi è fatto! Il mio braccio! I miei capelli! I miei denti! Ciao! Sì! 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 Come sopra. Sì!